ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi andiamo a trattare un tema molto delicato molto scottante che va sempre a toccare quelli che sono gli animi del player di fifa in particolare del player di foot ovviamente che quello relativo agli stili intesa benedettissimi stili intesa quali funzionano veramente funzionano veramente a cosa servono questi stili di intesa se io vado a mettere ombra sua kim fenwa arriva 80 di velocità andiamo a vedere per benino tutto il discorso perché c'è da fare un discorso lungo e approfondito secondo me e per fare questo voglio però partire da lontano voglio partire da lontano infatti mi sono andato a documentare un po sul web e ho trovato un video che affonda le sue radici addirittura su fifa 17 dove viene fatta una comparazione sulla stessa carta con e senza stile d'intesa sul lungo ossia in corsa quindi in particolare con focus sulla sulla velocità quindi cambio di scena e come potete vedere abbiamo questo speed test che non è lo speed test della connessione ma è lo speed test di queste carte come potete vedere abbiamo ram 6 che ovviamente colgo sempre l'occasione quando vedo ram 6 per farmi una grattatina bene aperte chiuse parentesi ritorniamo seri gli andiamo ad applicare nel primo caso sentinella che quindi va semplicemente a bustare difesa e fisico nel secondo caso invece viene applicato catalizzatore che gli porta la velocità a 81 quindi guardate la differenza nel primo caso abbiamo un ram 6 con 69 di accelerazione e 80 e 69 di velocità scatto nel secondo caso abbiamo un ram 6 con 84 di accelerazione e 79 di velocità scatto vedete bene che la differenza è molto sostanziosa ci aspettiamo che il buon ram 6 dia una bella pista a ram 6 con sentinella sul lungo andiamo a vedere quello che accade andiamo a vedere quello che accade perché vengono confrontati a partire da quella che è la propria area di rigore fino ad arrivare all'ultima l'esperimento tra virgolette termina quando il corpo del giocatore supera quella che è la linea dell'area di rigore avversaria guardate attentamente guardate qui già come potete notare che i giocatori sono praticamente spalla spalla e come potete vedere sono arrivati praticamente in contemporanea guardate qui il replay guardate il ram 6 di sotto arriva praticamente fermo immagine una frazione di secondo prima guardate lì è lui quello di sotto già con il corpo sulla linea mentre quell'altro ormai c'è quasi arrivato guardate qui passa veramente boh un decimo due decimi di secondo veramente una cosa irrisoria in termini in termini di tempo ma se magari voi vi domandate vabbè dai ram sei un po marcio come giocatore di cosa stiamo parlando io vi porto un altro esempio che è quello di wilfred boni ai tempi un attaccante già con 80 di velocità che nel primo caso a falco e di conseguenza arriva a 79 di accelerazione e 80 di velocità scatto per quanto riguarda invece il buon boni in questo caso a 84 di accelerazione e 85 di velocità con catalizzatore quindi vedete comunque una differenza abbastanza significativa sarebbe praticamente un doppio attributo verde scuro quindi molto positivo anche qui quindi stesso esperimento andiamo a vedere la corsa dei due giocatori con diverso stile intesa praticamente da aria di rigore ad aria di rigore eccolo qui in procinto di partire che c'è onda ecco qua scatto pulmino di wilfred boni che tra l'altro bei vecchi tempi che bella cartucce alla baggata che era sto sto boni tempo fa guardate qua sono arrivati praticamente ad una frazione di secondo nuovamente guardate qui qui magari la distanza sembra più ampia ma in realtà non è così semplicemente vedete boni nel primo caso al corpo all'indietro perché stava in realtà facendo poi lo scatto nell'andare avanti perché se io adesso rimetto nuovamente play guardate qui passa praticamente nuovamente un decimo di secondo e arriva anche il boni più lento quindi questo che cosa vi ha dimostrato in prima battuta che lo stile intesa non trasforma un giocatore alla fine un giocatore se avrà x di velocità con lo stile intesa avrà forse x più 0,1 non è che se voi andate ad applicare ombra a ram se i ram se vi arriva a 80 di velocità e vi corre quanto un cantè per esempio quindi quello che dico io è di non andarsi troppo a fossilizzare su questi attributi e non vi sto dicendo che non vi servono ma vi sto dicendo semplicemente che spesso e volentieri ci si fa veramente troppe pippe mentali su questi stili intesa quando invece i parametri per giudicare una carta sono altri non dovete andare a pensare cavolo magari a quello non gli metto cacciatore mi sta rendendo alla metà o se gli metto falco mi fa 10 gol in più e vinco le partite raga non è così non è così alle volte è più un pensiero che si annita nel nostro cervello che ci fa anche un po da scusante quando invece bisognerebbe focalizzarsi su altro perché quella carta mi ha sbagliato quel gol cosa potevo fare io per farla rendere in quell'occasione potevo magari direzionarmi meglio verso la porta potevo caricare di più il tiro potevo tirare a giro sul secondo palo a incrociare eccetera non pensate agli stili d'intesa io qui ho preparato anche degli altri esempi per ampliare il discorso questo era diciamo quello un po più visivo ok qui ad esempio ho preso il buon a che ok una carta che con nessun stile intesa si presenta con 74 di velocità ok andiamo ad applicare ad esempio ombra il tanto di battuto ombra lo porta a 84 di velocità un parametro incredibile ma voi credete che questo gomez con questo a che con ombra va dalla stessa velocità di questo gomez if che ha 84 di velocità sulla carta voi credete che a parità le due carte vadano uguale quella che con ombra è uguale a gomez così base senza stile intesa ora vi ripeto cono senza stile intesa non importa voi credete davvero che si sente così tanto fate la prova provate a cronometrare quanto tempo ci mette a che con con ombra è gomez così senza nulla da metà campo a metà campo come vi ho fatto vedere nel video in precedenza o ancora voi credete davvero che questo griezmann che sulla carta si presenta con 79 di velocità se voi applicate cacciatore eccolo qua arriva a 89 di velocità quindi che cosa significa questo che ha la stessa velocità di cristiano ronaldo se voi gli fate fare lo stesso percorso come vi ho fatto vedere nel video arrivano pari io dubito fortemente ragazzi io penso che quando cristiano ronaldo è arrivato griezmann ha forse da poco superato la metà campo quindi quello che vi dico io è quello di slegarvi da questa cosa e non vi sto dicendo che lo stile intesa non ce lo dovete mettere perché lo stile intesa va messo ma quello che è lo stile intesa è più una cosa che ci fa stare in pace tra virgolette una sorta di effetto placebo ragazzi è come quando a quanti di noi sarà capitato di avere un attacco di panico vi danno una pillolina naturale per farveli passare che a niente serve semplicemente per dire al vostro corpo cavolo ho preso la pillola quindi adesso starò bene stessa cosa io a sto griezmann io ho messo lo stile intesa cacciatore allora sto in pace con me stesso sto in pace con me stesso sto griezmann è un fenomeno ma non è così perché la carta che dovete valutare quella base alla fine è quello il vero valore di un giocatore non quello che dice foot bin che pure se metto hunter cacciatore a ronaldo arriva a 98 di velocità secondo voi se io metto hunter a ronaldo c'ha la stessa velocità di di un bappé non è assolutamente così anzi addirittura così sarebbe più veloce di un bappé non è assolutamente così ragazzi fidatevi tutto ciò vi ripeto non è però per dire che gli stili intesa non contano anzi vi ripeto vanno applicati perché vanno applicati perché li mettono tutti eccetera ma non bisogna andarsi manco troppo a scervellare su quali andare a mettere cose assurde alle volte mi chiedete allora io ho provato ronaldo con cacciatore ma si mangiava i gol di sinistro ho pensato di mettergli il bufalo perché così gli vado a migliorare quello quell'altro visto che si gira di più fidati rende meglio a me alle volte mi viene anche da sorridere quando mi vengono fatti questi discorsi io secondo quella che è la mia personalissima esperienza di gioco ritengo che gli stili intesa validi siano 45 e siano i seguenti ombra e ancora per i difensori centrali e i terzini in particolar modo ombra per i difensori centrali e ancora per i terzini quando sono tanto veloci e comunque quando ci avviciniamo a fine game quindi si può mettere anche ancora per i mediani stessa cosa ombra oppure ancora oppure esagerando quando arriviamo proprio a fine game con quei tozzi incredibili eccetera gli possiamo andare a mettere un motore oppure un catalizzatore così per quanto riguarda gli esterni cacciatore appunto o cannoniero finalizzatore magari se sono tanto veloci per quanto riguarda le punte o cacciatore o motore se gli si vuole andare sempre mentalmente a toccare un pochino l'agilità ad esempio io a ronaldo ho messo motore ma vi ripeto non vi immaginate che con motore eccolo qua engine ronaldo diventa all'improvviso agile 92 ossia praticamente agile fatemi pensare un attimino come un griezmann o per assurdo fatemi controllare al volo messi proprio il bello della diretta come messi cioè voi credete che ronaldo con motore abbia la stessa agilità in game di messi su quello incidono tante cose incide il body type il peso controllo palla 800 miliardi di fattori lega che non sono azzerabili dagli stili di intesa fidatevi di quello che vi sto dicendo quindi tutto questo discorso per dirvi cosa non per dirvi che i vanno aboliti completamente allora giochiamo tutti con gli stili di intesa base no perché sono una cosa del gioco quindi la utilizziamo eccetera ma più vi ripeto per sta in pace così per non avere remore ma alla fine una carta vi rende praticamente uguale non è quello stile intesa che ve la stravolge spero raga che sto video sia stato abbastanza chiaro mi sono abbastanza scervellato per portarvi degli esempi lampanti che potessero farvi capire per bene la situazione e nulla mi raccomando commentate lasciate un like fatemi sapere voi che ne pensate di questa faccenda oscura e nulla io vi auguro una buona giornata lo sapete vi aspetto ogni giorno in live su twitch e nulla raga ciao ciao